nonno cosa ti devo fare? io pensavo che mi tocchi da 50 pescare cosa? mi tocchi da 50 ti hai sapato che cosa? si, ancora per un pochino tocchi da 50, da 100 con il pelle è buona e con il mancime? con il pelle è buona dove? non ti vedi che ne raccogliano con che vermi sei che ti si a pescare? con il pelle è buona non ti vedi voglio dirmi non ti vedi neri, non ti vedi bianchi non ti vedi? e ti ha pescato? questa roba ti ha ciamato fammi vedere di voglia, cosa ti ha ciamato? 200 stavolta e lo faccio io e lo faccio io e ancora la ciappa? ci ha l'ambi non ti vedi non ti vedi tutto e lo faccio io non ti vedi